Ciao, io sono Riccardo Pedica e questo è il podcast di Impara la Fotografia, la community dove impariamo e parliamo di fotografia in modo facile, veloce e divertente. Ciao a tutti amici fotografi e bentornati sul podcast di Impara la Fotografia con una puntata speciale dedicata al numero 50 del podcast. Infatti sono già 50 puntate che sono state registrate e che abbiamo condiviso insieme parlando del mondo della fotografia, andando ad analizzare tutti gli aspetti della fotografia da un aspetto un po' più filosofico a quello più legato alle mie esperienze e quindi ai miei errori e anche a tutte quelle discussioni sui consigli per diventare fotografi, come gli dico io, consapevoli. Bene, ringrazio quindi tutti quelli che stanno ascoltandomi, che mi ascolteranno e che mi hanno accompagnato in questi primi 50 puntate del progetto, non me lo sarei mai aspettato di farne 50 e penso che siamo solo all'inizio perché gli argomenti sono tantissimi e possiamo continuare a parlare di fotografia fino a che non ne abbiamo veramente troppe, piene le scatole possiamo dire. Bene, oggi vorrei parlarvi di un progetto che sto creando e vorrei sapere se vi piace, se siete interessati. Come sapete sto sviluppando una teoria che si chiama teoria del fotografo consapevole. Che cosa è? Quando noi parliamo, quando noi fotografiamo, possiamo avere tre livelli differenti di consapevolezza nella fotografia e quindi ho diviso il fotografo in fotografo istintivo, in fotografo tecnico e fotografo consapevole. Allora il fotografo istintivo è quel fotografo che fotografa praticamente distinto, ama la fotografia ma fotografa ma non conosce la tecnica, mentre invece il fotografo tecnico è quello che fotografa tecnicamente, che significa tecnicamente conosce tutte le conoscenze tecniche per fare una buona fotografia e sviluppa le sue fotografie in base alle conoscenze tecniche. Il fotografo consapevole, infine, l'ultimo, è quello che fotografa per il piacere di se stesso, fotografa consapevolmente, sa che cosa vuole, sa che cosa gli fa piacere e cerca solo il piacere personale. I problemi del fotografo istintivo sono che vorrebbe migliorare ma ha paura, ha paura di confrontarsi, ha paura di impegnarsi, ha paura di mettersi in gioco per diventare migliore. Sembra un po' una follia ma molti di noi siamo fotografi istintivi e tutti, in tutti i livelli. Il fotografo tecnico invece ha una consapevolezza delle sue capacità tecniche ma ancora non è sicuro della sua espressione creativa. Quindi fotografa secondo lo schema degli altri, secondo quello che viene, quello che va di moda, quello che crea più consenso su internet o nei posti dove condivide le cose e prova piacere nell'andare a essere riconosciuto come fotografo. Il terzo livello, il livello quello di invece fotografo consapevole, è il massimo livello della consapevolezza e è quello nel quale invece il fotografo fotografa per se stesso, prova piacere nell'azione di fotografare e nell'azione e nel risultato che riceve. Non importa se non è apprezzato dagli altri, non importa se non segue i canoni normali della fotografia, fondamentalmente prova piacere semplicemente facendo quello che gli va e gli piace e in questo modo sviluppa la propria espressione artistica. Bene, non tutti vogliono arrivare e diventare fotografi consapevoli, ma ognuno ha dei percorsi, ha dei momenti nei quali passa tra fotografo istintivo, tecnico e consapevole. E infatti la teoria, in un certo senso che sto sviluppando, dice che ognuno può diventare fotografo consapevole anche se è in un piccolo circolo. Infatti nel momento in cui il fotografo istintivo si rende conto che la sua paura di pubblicare foto, di fare fotografie, di mettersi in gioco, di mostrare la propria passione e quindi inizia a farlo, ha fatto un piccolo passo sul livello di consapevolezza, cioè è consapevole di quello che sta facendo, quali sono i suoi limiti e come superarli. Quindi il viaggio del fotografo consapevole è un viaggio che in un certo senso può essere fatto da tutti in tutti i livelli. Un altro tipo di viaggio che può essere fatto è quello all'interno di diverse tipologie di fotografie. La fotografia infatti può essere divisa in tanti diversi aspetti. Possiamo amare la macrofotografia, possiamo amare la fotografia di paesaggio, possiamo amare la fotografia di notte o con lunga esposizione ed ovviamente non siamo esperti in ogni campo. Quindi fare il viaggio del fotografo consapevole significa andare a capire quali sono i nostri limiti, significa andare a impegnarsi per superare e per capire cosa ci blocca, cosa ci manca, quando vogliamo migliorare e come vogliamo migliorare e quindi possiamo immaginare il viaggio del fotografo consapevole con diversi cicli di fotografia di livelli di apprendimento. Possiamo quindi iniziare in un modo ad essere dei fotografi tecnici a livello macrofotografico ma ad esempio essere dei fotografi istintivi nella fotografia di paesaggio. E quindi che cosa facciamo? Andiamo a creare, andiamo a studiare con consapevolezza quali sono tutte quelle cose, tutte quelle emozioni che ci passano, tutte le informazioni e le sensazioni che abbiamo quando fotografiamo, quando ci approcciamo ad una cosa differente per andare a migliorare la nostra consapevolezza su quello che facciamo, su quando scattiamo. E quindi per questo, durante il processo di elaborazione di questa teoria, ho creato una cosa che si chiama il viaggio, il diario del fotografo consapevole. E che cosa fa questo diario? Vi aiuta ed aiuta qualsiasi persona a capire quali sono le proprie emozioni, quali sono i propri dubbi e soprattutto quali sono le cose che gli mancano per diventare consapevoli in un determinato aspetto della nostra vita fotografica. E come facciamo? Il diario fotografico è formato da differenti blocchi di informazioni dove iniziamo andando ad analizzare tutte quelle che sono le nostre idee su determinati progetti e andiamo a definire un obiettivo. Ad esempio possiamo dire vorrei provare a fare un progetto sulla macrofotografia. Le prime cose sono cosa voglio fare, quali sono i miei dubbi. Ad esempio potremmo dire voglio fare la macrofotografia ma non ho gli obiettivi necessari, voglio fare la macrofotografia ma non ho la conoscenza tecnica necessaria, non ho il tempo. Speriamo di riuscire. Scriviamo tutti questi dubbi perché sappiamo poi che durante il percorso, e questo ve lo consiglio io, ve lo dico io, andremo a cancellare uno per uno tutti questi dubbi perché l'unica cosa che ci separa dalla vera, da diventare fotografo istintivo al fotografo consapevole è l'impegno. E quindi già semplicemente con l'impegno possiamo andare a risolvere tanti di quei dubbi che abbiamo all'inizio. La seconda parte ci fa fare una lista di idee, quindi immaginiamo vorrei fotografare solo libellule, vorrei fotografare solo fiori di campo, vorrei fotografare fiori al tramonto, ed andiamo ad analizzare queste idee per cercare la più semplice da sviluppare ed iniziare il nostro viaggio del fotografo consapevole. Continuando in questo modo andiamo a trasformare l'idea in progetto e quindi andiamo a scrivere sul nostro diario tutte quelle che sono le idee per fare il progetto. Quindi il mio progetto sarà 100 libellule in 30 giorni. Significa che dovrò prepararmi e scriverò sul progetto il perché voglio farlo. Mi piacciono moltissimo le libellule e mi danno una sensazione di libertà. Possiamo andare a dire quelli che sono i mezzi che ci serviranno. Mi servirà un cavalletto, mi servirà una macchina fotografica, un obiettivo speciale o magari se non lo ho me lo posso far prestare o andarlo a noleggiare se proprio voglio fare una cosa speciale e quindi trasformiamo le idee dalle idee ai progetti. Quando andiamo a lavorare sui progetti siamo già ad uno stato molto avanzato perché abbiamo superato già i nostri primi blocchi sulle idee che noi vogliamo avere nel nostro progetto e andiamo a creare quindi un calendario. Ci mettiamo la data, diciamo sabato prossimo andrò a farmi una passeggiata e proverò a fotografare libellule così andiamo a dare un obiettivo al nostro progetto dicendo che sabato vado a fare questo tipo di fotografia e poi possiamo iniziare a effettivamente fotografare. Qui entra in gioco il pieno del diario del fotografo consapevole, ci sarà una pagina dove da una parte scriveremo il nome della fotografia, lo scatto, gli iso, le impostazioni, il materiale che abbiamo usato, le sensazioni, le emozioni e possiamo anche andare a lavorare su un'analisi a fare degli esercizi del fotografo consapevole. Gli esercizi sono alcuni, ad esempio analizzare come ci sentiamo mentre fotografiamo, quali sono le nostre emozioni, quali sono i nostri dubbi. Punto moltissimo su questo, su questa analisi di come ci sentiamo perché molto spesso andiamo a fotografare e fotografiamo con una specie di ansia, una specie di voglia di finire. Però se iniziamo a ragionare su come facciamo le fotografie, sulle emozioni che mettiamo, allora il viaggio del fotografo consapevole ci porterà a provare divertimento e ad essere, provare piacere in ogni aspetto della fotografia e questo sarà scritto sul diario. E alla fine possiamo avere anche una sorta di posto dove raccogliere le nostre fotografie quando decideremo di stamparle in modo da avere effettivamente un diario del nostro progetto di crescita. Bene, questo diario sarà utilizzato per creare un vostro progetto e questo progetto potrà essere, scaricandovi un nuovo diario, potrete continuare a farne tanti altri e continuare il vostro viaggio del fotografo consapevole. Cos'è la cosa bella è che in questo momento potrete andare a, quando scrivete, andate ad analizzare molto meglio le vostre capacità, le vostre sensazioni, formalizzate molto di più tutto quello che avete imparato e quindi questo aumenterà la vostra capacità di apprendimento di molto. Una cosa che io sto già facendo e che è molto molto interessante. Questo è un progetto che sta sviluppandosi, quindi non è ancora pronto. Però faccio questo podcast perché penso che sia una sorta di riassunto del percorso che è stato fatto in queste 50 puntate e queste 50 puntate mi hanno dato voglia e mi hanno dato gli stimoli, la spinta per scrivere questo diario. Come facciamo quindi per avere accesso, come fate voi per avere accesso a questo diario se siete interessati? Potete diventare Patreon, quindi potete diventare sostenitori e produttori del podcast e del progetto Impara la fotografia con una cifra qualsiasi che va da 1 a 5 a 10 a 15 euro al mese. In questo modo sostenete il podcast, continuate a dare una sorta di sostegno e di produzione a questa idea, a questo progetto e potrete ricevere come bonus speciale il file PDF dove potrete iniziare a lavorare sul progetto fotografico. Quindi se volete ricevere questo diario del fotografo consapevole andate su Patreon e iscrivetevi e contribuite con una cifra qualunque essa sia, non è un problema. Per me è importante, non nell'aspetto economico, è importante che voi siate veramente volonterosi di partecipare a questo progetto e quindi mi serve, vorrei avere semplicemente il fatto che siete produttori, diventerete dei miei collaboratori e questo progetto migliorerà grazie anche al vostro contributo. Quindi andate su Patreon, il link lo trovate sulla descrizione del podcast e se volete contribuite e vi manderò personalmente la prima versione del diario del fotografo consapevole per festeggiare queste 50 puntate insieme. Bene, per oggi è tutto, vi ringrazio e ci sentiamo alla prossima puntata di Impara la fotografia.